Su una cosa i siti di meteorologia sono tutti d'accordo, la prossima settimana sarà un inferno in molte città italiane e la Toscana non sfuggirà alla canicola dell'anticiclone Caronte, che come il suo omonimo di qualche anno fa renderà difficile riposare anche di notte. Ma non disperiamo, chi non va al mare dovrà attrezzarsi per cercare mete alternative o altrettanto fresche. E cosa c'è di meglio all'ora di un bel tuffo in piscina per rigenerarsi? A Rezzo offre due piscine, altre sono in provincia e sono gettonatissime. È un'occasione per stare insieme rinfrescandosi, fare un picnic con la famiglia e giocare con i bambini. Tra scivoli e giochi d'acqua, tra attrazioni adrenaliniche e totale relax, il costume si mette dunque anche in città, senza dimenticare la crema solare. Vicino ad Arezzo abbiamo lo splendido lago Trasimeno, uno specchio d'acqua di antichissima memoria storica, pieno di fascino e con deliziosi ristoranti. Sicuramente meno affollato delle spiagge al mare in questo periodo, offre la possibilità di rinfrescarsi e di prendere il sole in mezzo alla natura, muniti solo di un asciugamano. Terzo è scoprire la bellezza del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, un luogo ricco di sentieri, sicuramente molto fresco e con le mille opportunità di visita, in bici o seguendo le guide nei vari percorsi di trekking. Un luogo magico per sentirsi a contatto con la natura e con gli animali e per conoscere da vicino tutte le specie che vi abitano. Insomma, tra un tuffo e una passeggiata non sentirete più di tanto le fiammate di Caronte, che comunque dovrebbe calmarsi dopo il 20 luglio.